La testimonianza di oggi parla del signor Laurino Costa. Il signor Laurino Costa era originario di un paesino vicino Padova. Un giorno perse il lavoro e quindi potete immaginare bene che era preoccupatissimo in quanto non sapeva come avrebbe fatto all'avvenire senza lavoro. Un amico le aveva parlato tempo prima di Padre Pio si ricordò del santo di Pietrelcena e decise di scrivergli una lettera chiedendogli una benedizione affinché lo aiutasse a trovare lavoro. La cosa incredibile che sorprese molto il signor Laurino Costa fu la velocità con la quale Padre Pio le rispose scrivendogli semplicemente vieni a trovarmi a San Giovanni Rotondo. Il signor Costa non perse tempo chiaramente però c'era il problema economico. Non aveva soldi per potersi permettere il biglietto per viaggiare fino a San Giovanni Rotondo. Riuscì comunque a raggiungere la stazione dei treni di Padova, del suo paesino. E lì cominciò a parlare con la gente che era la stazione raccontando quelli che erano i suoi progetti per andare a San Giovanni Rotondo perché Padre Pio lo attendeva. Un signore che lo aveva ascoltato parlare e raccontare quella storia si avvicinò e gli disse io sto andando a San Giovanni Rotondo se vuole può venire insieme a me. Quel signore era il direttore di casa sollievo della sofferenza, l'ospedale di Padre Pio. E quindi Lorino Costa ebbe la fortuna, tra virgolette, in quanto sappiamo bene che Padre Pio organizzava sempre tutto alla sua maniera. Quindi il signor Lorino Costa riuscì ad arrivare a San Giovanni Rotondo in tempo per la messa di Padre Pio che come sappiamo era la mattina molto presto. Subito dopo la messa il signor Lorino Costa andò insieme agli altri fedeli ad incontrare Padre Pio per la benedizione. Non potete immaginare quale fu lo stupore quando lì in mezzo a tutti gli altri fedeli per la prima volta nella sua vita vide Padre Pio. Ma la cosa incredibile è che nonostante non lo avesse mai visto prima o incontrato prima, se preferite. Padre Pio guardò Lorino Costa come se lo conoscesse da sempre e a gran voce lo chiamò per nome dicendo Lorino vieni qua, vieni. Il signor Costa pensò, oh mio Dio ma come fa a sapere il mio nome? Io non l'ho mai incontrato prima. E di qua ti ho detto Lorino, ripetè Padre Pio. E il signor Costa si avvicinò. Padre Pio lo guardò e disse, sa cosa devi fare adesso? Adesso tu vai nel mio ospedale, casa sollievo della sofferenza e prepari da mangiare per tutti i miei ammalati. Il posto da chef è tuo. Il signor Costa disse, ma padre io non so cucinare, non so niente di cucina, non ho mai cucinato un piatto in vita mia. Ti ho detto vai a cucinare, disse Padre Pio. Si sa, padre Pio non amava ripetere le cose, era sempre molto diretto. E il signor Costa lo guardò e disse, almeno se ci vado promettete che mi assisterete. Tu vai e non ti preoccupare, io sarò con te, disse Padre Pio. Chiaramente pieno di paura il signor Costa attraversò, diciamo la strada e arrivo fino all'ospedale, casa sollievo della sofferenza. Una volta lì fu accolto da una suora che disse, ah lì il famoso chef che attendevamo, che bello che sia qui. Venga, 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 le presento il resto dello staff. Voi potete bene immaginare quale fu la sensazione che il signor Costa ebbe nel cuore, ebbe paura, non era mai cucinato e di colpo si ritrovava a capo di questo staff di cucina e guardava estasiato tutti quegli ambienti pieni di cibo, di persone, di pentole, insomma di tutto quello che serve per cucinare. Quel giorno, direi in seguito il signor Dorino Costa, ho cucinato per quattrocentocinquanta persone. Il signor Dorino Costa affermò anche, non so spiegarvi come, ma appena misi piede in cucina, era come se avessi cucinato da sempre. Conoscevo quel posto nei minimi dettagli, sapevo esattamente cosa fare e cosa dire per cucinare dei piatti. Si sa, le vie del signore sono infinite e il signor Dorino Costa divenne lo chef di casa soldiero della sofferenza. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!